Stiamo qui con Vecchione, vecchia conoscenza del tifoso Annocerino, facciamo una domanda più ovvia, come è stato il ritorno a Annocer? Sicuramente è stato bellissimo, l'ho voluto fortemente e mi fa piacere essere qui. Stiamo all'inizio della preparazione atletica, quanto è dura una preparazione atletica e cosa state facendo? Sicuramente come hai detto tu è dura ma è giusto così, è giusto così, è un periodo in cui si lavora, si provano tante cose con il massimo impegno nonostante un po' di stanchezza. Vado con delle curiosità, l'anno scorso Girona è Nord, cosa è differente in confronto a quelli del Sud e come si è trovato? Ma rispetto al Sud dico una cosa ovvia, le piazze sono diverse nel senso che ce ne sono di meno, però comunque nonostante non ci sono tante piazze è un girone avvincente anche quello del Nord. Quest'anno sei tornato a Annoceria con tanta concorrenza, quanto pensi che possa essere duro a prendersi un posto da titolare e dove può arrivare questa Annoceria? Ma sicuramente sarà dura, c'è tanta concorrenza ma c'è tanta anche sana competizione e sono pronto sul campo a dimostrare. Con il modulo di gioco di Esporto molto differente da quello di Mister Cavallaro, quali sono le differenze e in che cosa devi riuscire ad abituarti nel cambiare tra i due moduli di gioco? Sì, è abbastanza differente, ma come ho detto prima stiamo lavorando, stiamo capendo le idee del Mister e sicuramente le metteremo in pratica. Ora il campionato è stato spostato, quando può avvantaggiare il fatto che si è trovato il campionato dal 3 settembre al 10 settembre, la Annocerina, quale secondo lei il girone della Annocerina e quale sarà la Annocerina, come si potrebbe comportare in questo campionato? Sì, abbiamo saputo che è slittato, ma avremo più tempo per lavorare, per prepararci al meglio. Il girone è personalmente indifferente, qualsiasi girone ci mettono noi saremo pronti a dire la nostra. Quali sono le ambizioni di questa squadra? Ci si augura sempre il meglio, speriamo di arrivare il più in alto possibile e vincere il più partito possibile.